Quest'ora è esserci sempre, partiamo da questo slogan, dal tema di questa grande festa della polizia, sempre un momento significativo per voi? Per noi è il momento significativo, il momento di confronto con i cittadini, con la comunità in cui presentiamo quello che siamo stati e cosa vorremmo fare. È un momento anche di comunione con il territorio. Parlando di quello che è successo in quest'anno a Cuneo, avete anche fatto un bilancio positivo, no? Sì, un bilancio tutto sommato positivo, ma che non ci soddisfa, dobbiamo fare sempre meglio, sempre di più per la comunità.